Ciao ragazzi da vostro bandito rossonero, oggi 13.30 un video con live, chi vorrà partecipare è benvenuto per parlare dell'incredibile vicenda capitata a Bakayoko, una cosa che secondo me su cui non c'è nulla da ridere nulla di divertente ma che è lo specchio di un paese che va a rotoli e di un ministro dell'interno che si dovrebbe dimettere immediatamente, quindi oggi il video lo facciamo verso le 13.30 così con una live se qualcuno vuole partecipare è benvenuto e parliamo anche di Milan, a dopo ciao ragazzi 13.30